Cangelosi, ma va in partenza la seconda trissi nazionale della giornata, quarta corsa di Palermo. Quarta corsa di Palermo, miglio di categoria F, valido come seconda trissi nazionale, e netti favori al gioco per il numero 4 Orange, Cosimo Cangelosi in sediole, il momento della partenza c'è l'errore eliminatorio del numero 7 Ieper, che resta ormai praticamente fuori corsa, è il momento dello stacco, stacco che vede emergere come da copione la favorita Orange, al cui interno si avvia bene Persico M, guadagna la seconda posizione, nei confronti di Panther OR, che a sua volta si sistema terza, lasciando all'esterno Maribon PG, cui è venuta davvero male la partenza e si ritrova a battere una scomodissima corsia esterna. Dunque la favorita Orange al comando, a seguire Persico M e poi Panther OR, per linee esterne si ritrova Maribon PG, 30 scarsi per i primi 400 metri, i scia a Maribon PG, si è sistemato Poseidon R, poi Ormone dei Fiori, mentre addirittura in terza ruota a largo di tutti prova a rinvenire Ieper, che era rimasto molto lontano in partenza, ma comunque non era stato squalificato, perché l'errore era avvenuto prima dello start. Dunque sempre al comando il numero 4 di Orange, che sta percorrendo la penultima curva, mancano poco meno di 800 metri al traguardo, Persico M e Panther OR in scia, Maribon PG ancora attaccato all'esterno con grande generosità, anche perché il primo chilometro non è stato particolarmente veloce, 1-16 appena scarsi per la battistrada, che sin qui ha potuto sostanzialmente fare i propri comodi. Adesso dalla seconda corsia prova a venire avanti senza grossi risultati, Poseidon R, cede Persico M con il numero 1, così Maribon PG può scendere alla corda, poi Poseidon R, più a largo anche Mohamed Play prova a venire avanti, mentre Panther OR si è agganciato con Persico M ed ha perso il treno per un buon piazzamento, si è liberato soltanto adesso e prova a rinvenire per linea interna, nel frattempo se ne è andato Orange e va a vincere, sia pure faticando come sempre negli ultimi metri, addirittura ha rischiato la sconfitta, però alla fine si è salvato Orange, sul mio cronometro ho qualcosa più di due minuti, attorno all'1.15.5, molto faticosa la vittoria per Orange, il numero 4, 1.86, è stato pericolosissimo il finale dell'Utsider Orion MG, mentre per il terzo posto Mohamed Play ha preso la meglio sulla sfortunatissima Panther OR, quota di 1.86 per Orange, dunque 4 al primo posto, al secondo posto dovrebbe essere, dovremmo un po' rivedere il filmato.